Anticipazioni Uomini e Donne, Lavinia ha fatto la scelta tra Alessio Campoli e Alessio Corvino. La tronista Lavinia Mauro ha fatto la sua scelta Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni. It dalla pagina Instagram Uomini e Donne Trono Calsico e Over, nella puntata registrata il primo aprile la ragazza ha deciso con quale corteggiatore iniziare una relazione tra Alessio Campoli e Alessio Corvino. Attenzione spoiler! Stando alle indiscrezioni, Lavinia Mauro è arrivata alla fine del suo percorso come tronista Uomini e Donne decidendo con quale ragazzo coltivare una relazione lontano dalle telecamere del programma. Tra i due corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino, la ragazza ha scelto Alessio Campoli, comunicandoglielo dopo aver mostrato ai telespettatori due filmati che riassumevano i momenti migliori e quelli più difficili dei percorsi affrontati con entrambi i corteggiatori. Alessio Campoli si è commosso per la scelta di Lavinia, le ha dedicato una canzone e naturalmente le ha detto sì. Nella puntata della scelta, stando sempre alle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni. It, Lavinia indossava un vestito rosso, mentre Alessio Corvino un completo nero con papillon. Il ragazzo, dopo la scelta, si è commosso e le ha dedicato una canzone. In studio c'è stato poi un momento piuttosto emozionante. Quando tutti i presenti hanno iniziato a sventolare un ventaglio. L'altro corteggiatore, Alessio Campoli, ha ascoltato il discorso della tronista e, nonostante non fosse stato scelto, l'ha comunque abbracciata in segno di affetto. Il ragazzo, dopo la scelta, il ragazzo, il ragazzo, il ragazzo, il ragazzo, il ragazzo, il ragazzo. Il ragazzo, dopo la scelta, il ragazzo, il ragazzo, il ragazzo.